Il valser degli infermieri. All'azienda sociosanitaria territoriale L'Ariana sembra stia per partire una riorganizzazione interna che dovrebbe prevedere una serie di incastri e spostamenti per far fronte alla carenza di personale denunciata nelle scorse settimane. E proprio i rappresentanti dei dipendenti hanno chiesto con urgenza chiarimenti alla direzione denunciando una sorta di risico che rischia di creare difficoltà agli operatori stessi e all'organizzazione delle attività dei settori coinvolti. La richiesta è stata inviata ai vertici della SST L'Ariana dal coordinatore dell'RSU Massimo Coppia dopo che nei giorni scorsi si erano diffuse informazioni su una serie di trasferimenti da un reparto all'altro e da un presidio all'altro. Un effetto domino che sarebbe stato innescato spiegano dalla mancata sostituzione di un dirigente medico assente per gravidanza dal reparto subacuti di Cantù che sarà trasferito all'interno dell'unità operativa multidisciplinare del Sant'Antonio Abate, peraltro con una probabile riduzione dell'attività. Un problema al quale si aggiunge come noto la carenza infermieristica già evidenziata in rianimazione. La direzione sarebbe dunque pronta ad un walser del personale infermieristico con almeno quattro spostamenti dai reparti di Cantù alla rianimazione. I dodici operatori dei subacuti che rimarrebbero senza un reparto potrebbero invece essere distribuiti in parte al posto dei quattro colleghi spostati dalle degenze di Cantù e in parte nella degenza chirurgica del Sant'Anna. Questo risico del personale infermieristico poteva e doveva essere risolto precedentemente, denuncia il coordinatore dell'RSU con un'organizzazione puntuale attenta alle esigenze sia dei lavoratori sia dei cittadini coinvolti, viste le molte note che abbiamo inviato sulla carenza di personale. I rappresentanti sindacali chiedono una sospensione del piano in attesa di un confronto chiarificatore per valutare soluzioni alternative.